Siamo con due degli allenatori della squadra juniors e giovani italiana, Mirko Romanin e Fabio Cianciana qui ad Anterselva. Allora, parto da Fabio Cianciana che è qui praticamente tutti i giorni, fa parte praticamente dei volontari qui ad Anterselva. Che mondiale stai vivendo? È un mondiale bellissimo, il tempo ha aiutato, fa bello caldo, c'è un sacco di gente, poi sicuramente i risultati aiutano anche a viverlo in maniera ancora più bella. Peraltro tante ragazze della vostra squadra giovanile stanno anche venendo, visto che sono di Anterselva, qui a seguire le gare. E proprio di loro tre volevo parlarvi, hanno regalato una bellissima soddisfazione Anna, Linda e Rebecca. Sì, sicuramente loro sono state bravissime durante tutta la stagione, perché comunque già in dicembre avevano fatto vedere delle belle cose, ma al mondiale si sono dimostrate prontissime per l'occasione, hanno fatto vedere di che pasta sono fatte. Soprattutto Linda, che veniva anche dall'Olimpiade giovanile, è stata bravissima a recuperare e a essere di nuovo pronta per portarsi a casa con i risultati che tutti conosciamo. Però a parte le medaglie a comunità giovanile non sono importanti, no? Soltanto le medaglie. Quindi volevo chiederti anche degli altri che non le hanno vinte, soprattutto i due che erano piattesi, possiamo dirli, Biona e Giacomel. Sì, come hai detto benissimo, le medaglie a questa età qua non contano nulla o poco. Sicuramente fanno morale, fanno piacere a tutto il gruppo, però quello che conta è qua dove siamo noi, dove magari ci saranno loro tra qualche anno in questo palcoscenico, dove tutto conta molto di più ovviamente. L'atteggiamento di tutto il gruppo è stato positivissimo, gliel'abbiamo rimarcato ogni giorno, soprattutto alla fine del mondiale. Abbiamo fatto tutti i complimenti a tutto il gruppo e noi siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e di come si sono comportati i ragazzi durante tutta la stagione fino ad adesso. Sorpreso dalle prestazioni di Didier in IWC? Sicuramente il tiro ha sparato bene, quindi era alla sua portata, nel senso che poteva sparare così si sapeva. Sì, ha fatto veramente una grandissima prestazione e il bello è che lui ha detto che si sentiva bene, ma niente di eccezionale. Senti, quanto è importante anche il rapporto di amicizia tra voi due all'interno della squadra? È fondamentale. Quando si sta bene, si lavora più sereni, ci si incontra anche nella programmazione, nella gestione dei ragazzi, in tutto. Secondo me è fondamentale, prima di tutto, essere gruppo negli allenatori e poi di conseguenza i ragazzi è facile portarli avanti. Quanti giorni a settimana, quante volte vedi Fabio Cianciano e quante volte lo senti? Diciamo che c'è una bella lotta tra Fabio Cianciano e la mia fidanzata. Durante l'anno stiamo tanto assieme e come ha ben detto Fabio è fondamentale andare d'accordo e noi andiamo d'accordissimo, noi due come con tutti gli altri membri dello staff e di conseguenza tutti i ragazzi lo vedono e c'è una bella armonia, c'è un bel gruppo che lavora tanto, stando bene assieme. Un difetto di Fabio? Domanda tra bocchetto. Ha un carattere, io gli dico sempre che ogni tanto si arrabbia, anzi ogni giorno si arrabbia un'ora al giorno e quindi quello è il suo e dobbiamo tenerlo così com'è. E di Mirko? Ogni tanto è permaloso, però sì, nel limite. L'anno scorso mi ha colpito di te una, che ti eri commosso, non faccio il nome dell'atleta, parlando dei miglioramenti di un atleta della squadra, ci tieni veramente tanto? Sì, no, è semplice far sparare chi è capace a sparare. La sfida che mi porto dentro da anni, quelli che arrivano, che fanno più fatica a sparare, è una sfida personale, ce la stiamo facendo. E per te qual è la soddisfazione più grande? La soddisfazione più grande, sicuramente in questo percorso di due anni, è vedere quelli che sono stati i progressi di questi ragazzi in così poco tempo, perché fondamentalmente siamo partiti tutti da zero e sono riusciti tutti a raggiungere dal buon all'ottimo livello. Per ultimo se voglio chiedere entrambi, ovviamente non allenerete questi ragazzi per tutta la loro vita, nella loro carriera avranno tanti anche altri allenatori nel loro percorso. Cosa gli direte il giorno in cui dovrete salutarli? Non ci ho ancora pensato sinceramente, ma comunque come è successo nel corso delle nostre carriere, perché comunque facendo l'allenatore capita spesso di arrivare a un certo punto che le storie di lavoro tra atleti e allenatori finiscono, ci si saluta, ci si ringrazia e comunque il rapporto non finisce sicuramente lì, ma ci sarà sempre tempo per trovarsi, per dare dei consigli, per parlare, per continuare ad avere comunque un ottimo rapporto sempre. E da parte tua Fabio? Ma io neanche io non ci ho mai pensato, però penso che quando succederà gli dirò di affrontare il lavoro con la stessa serenità che l'hanno affrontato fino ad oggi, che li ha portati comunque a salire di livello e quindi quello è importantissimo. Grazie mille entrambi. Grazie a voi. Grazie a voi.